Il Cerchio Work risponde ai bisogni della comunità grazie a un team di persone specializzate e attrezzature sicure e adeguate. Trasportiamo tuo figlio a scuola, ci occupiamo dell'alimentazione dei tuoi bambini, assicuriamo l'igiene del tuo luogo di lavoro, ci prendiamo cura dei parchi pubblici o del tuo giardino, possiamo occuparci del tuo trasloco e vendiamo i mobili per la tua casa. Il Cerchio Work, la tua fiducia è ben riposta.